Si conclude un percorso durato oltre un anno con la presentazione ai sindaci della conferenza metropolitana e la definitiva adozione all'interno del Consiglio metropolitano del nuovo piano strategico metropolitano. Il piano strategico che è il documento fondamentale dell'ente che si integra con tutti gli altri documenti programmatici dell'ente e che ha un titolo molto significativo Torino metropoli montana e che vuole tenere insieme le due anime della città metropolitana l'anima cittadina e della conurbazione di Torino ma anche le aree interne rurali e montane che sono la grande ricchezza della nostra città metropolitana. Una città metropolitana che mira ad avere una visione di sé più equa solidale e coesa e che ha visto la partecipazione attiva dei territori che si sono fatti coinvolgere all'interno di questa progettazione.